o mi tocca? mi tocca? lo hai scaricato, lo hai scaricato dopo un freccio lui non la scarica neanche, gli va dietro e basta è un'altra roba è un'altra roba che niente fa buongiorno non è che è finita così, dopo il contrario contrario, 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 contraria infatti vedi che è andato a guardarlo subito scusa, se no non è anche bello è un'altra roba